Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questo nuovo video e adesso giocherà Matteo Che se non me questa puntata non finirà mai Comunque, buon lambo, adesso devi... intanto devi andare dritto Allora, adesso noi dobbiamo trovare il modo per poter aprire alle manette E dobbiamo andare per forza lì, e lì ci sta il nostro caro simpatione Quindi mettiti la videocamera col flash Come si fa a mettere? Devi usare il mouse F Ok Prima il ma... F Però spegni, cioè... eh, attiva... Tieni di sta webcam E la F l'attivi solo quando sei nel buio Ok Quindi tra pochissimo Ma lo vedi che tu secondo me c'è qualche disturbo mentale? Shift E poi il tasto E va bene Mo che faccio? Eh, mo che fai, ritorna indietro E che ne so, so abituato con Minecraft Oh Fai, vieni lo spazio Ancora che premi due volte... E premi due volte, doppia volte da un pugno No, shift Shift Allora, una volta sola shift Una volta sola la direzione Corri che se no arriva quello Vai Vabbè Dai di qui Non guardare giù Guarda su, no? Eh Entra Entra qui Allora, adesso Aspetta Mo fagli il dribbling Gira dietro No Che caglio fai? Uuuuuh Scappa Scappa dritto Corri, corri Entra qui Qui No, lì No, vabbè Dentro si può Vabbè, vabbè Idiota Cioè, le parti in cui va meglio sono le mie Queste di rimaniamo 80 anni super Eh, ho capito Non ci so giocare Sì, vabbè Cavalca, bimbo Cavalca Dove che sarebbe giocare? È meglio un bambino Cioè, proprio Allora E ripreme due volte, doppia, bimbo Niente È proprio un vizio Va, vado, vado, vado Do sta, do sta, do sta Vai dritto Vado dritto Adesso Aspetta ancora E entra in questa qui Vai Dritto, dritto Perfetto Adesso gira di qua Su, su, su Su, su Premi spazio Premi spazio Mamma mia che pista Mamma mia che pista Prova ad andare di qua Chi è questa? Bah, scansalo Ma leva la Leva la torcia, mozzare Che spreca batteria Eh, lo so, che cacchia Attivala solo quando è buio Oh, giù Che è? È la chiave È la chiave della Ok Non devi ritornare indietro E c'è sta quello? Eh, certo Ecco, è laggiù in fondo, vai Salta 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 No, lui non c'è Gira dietro Ah, ok, no Non c'è Ok Io direi che sei stato proprio Portentissimo Non so quanto tempo stiamo registrando Però complimenti Hai veramente fatto Hai fatto davvero Tutto quello che non potevi mai fare Comunque Eeeh Stoppa Perché tanto tu Se no se vai avanti Matteo È il meglio È un infarto Quindi noi ci vediamo Al prossimo video Come sempre Dritto per dritto Allora Grazie a tutti.